Marta, eccola qua. Ciao, bellissima, quanti anni hai? Gesù, prendimi tra le tue mani e tienimi stretta fino a domani. Non vale, non è una preghiera. Parta. È pronta per la crescita? Sì, ma lei aveva già frequentato Svizzera. Già è preparata. E allora guardiamoci intorno e vediamo che cosa ci propone oggi il mondo. La chiesa deve essere di nuovo protagonista. Deve tornare a proporre degli eventi straordinari. Sai cosa dicevano di Gesù? Che dicevano? Che ero matto. Ma quando mai? Credo! Questa è la nostra fede. Questa è la fede della nostra chiesa. E noi ci gloriamo di professare in Gesù Cristo nostro Signore. Amen! A questo punto il Vescovo disegnerà e tirerà uno schiaffo simbolico così! È Gesù che urla. E tu come te l'immagini? Buono. Ho gli occhi azzurri. Che ti vuole abbracciare. Sì. Occhi azzurri. È Gesù. Cosa cosa è la fede? Occhi azzurri. Occhi azzurri. Occhi azzurri. Grazie a tutti.